Il diritto delle successioni è sicuramente una delle branche più complesse del nostro diritto e sono molto agganciate al diritto di famiglia, infatti il primo libro ingloba in sé famiglia e successioni. Bisogna essere specializzati per occuparsi di successioni perché è una materia completamente a sé stante, particolarmente complessa, molto tecnica in cui ci vuole anche una capacità di mediazione sia con i clienti che con la controparte e perché voi verificate che in queste procedure spesso e volentieri i fratelli diventano coltelli. A volte per un pezzetto di terra, per un piccolo appartamento, per un piccolo guzzoletto in banca di un genitore defunto, fratelli che dovrebbero tenersi per mano arrivano in tribunale a scannarsi letteralmente e questa cosa mi intristisce molto, quindi io credo che anche l'autovevolezza dell'avvocato serva in qualche modo a evitare che si debba entrare in tribunale e si possa arrivare veramente ai ferri corti. Non vi starò a spiegare tutte le questioni delle successioni perché ci vorrebbero dieci ore di registrazione, ma vi posso dire che tutte le questioni che riguardano le impugnazioni dei testamenti, quando si deve parlare di collazione perché un figlio ha ottenuto di più quando il padre o la madre non in vita rispetto all'altro, quando il testamento può essere impugnabile perché contiene delle irregolarità o è assolutamente nullo, è chiaro che qui purtroppo si creano dei problemi seri e bisogna quindi mediare, basti pensare per esempio che la legge impone il percorso di media conciliazione, voi non potete proporre un atto di citazione, perché si procede con l'atto di citazione, per impugnare un testamento o per rivendicare una quota legittima che è stata lesa senza il percorso di media conciliazione. Io sono convinto che questa sia stata una scelta assolutamente appropriata da parte del legislatore, perché a volte si risolvono problemi che apparentemente sembrano insormontabili proprio in quella sede. Ovviamente se in sede di media conciliazione l'accordo non dovesse essere possibile, allora si può procedere in sede giudiziale. Sappiate che i costi delle successioni sono piuttosto elevati, ecco perché allora consiglio a tutti di pensarci mille volte prima di entrare in tribunale e di valutare concretamente la possibilità di un accordo, perché in questo caso le spese legali sarebbero sicuramente molto più contenute, tenete presente che la parcella, il diritto e le spese dell'avvocato dipendono essenzialmente anche dall'asse ereditario, dall'oggetto della causa, ma al di là dei costi dell'avvocato sono anche i costi umani che dovete verificare. Anche quando si scrivono testamenti chiedete pareri ad avvocati, notai, parlate anche con fiscalisti e commercialisti per tutte le questioni fiscali, perché è molto importante. Quando donate qualcosa a un figlio sappiate che un domani questa donazione intervivo, cioè durante la vita dei genitori, può essere poi oggetto di collazione dopo la morte dei genitori stessi. Cioè ci sono tutte regole quando si arriva a un certo punto della vita che vanno conosciute. Anche la redazione di un testamento olografo, bisogna sapere come si fa. Sappiate che un testamento olografo deve essere scritto dal testatore di proprio pugno, non possono essere usati mezzi meccanici, ma un testamento olografo può essere scritto anche su un pezzo di regno, su un pezzo di stoffa. L'importante è che sia chiaro l'oggetto, sia chiaro chi redige il testamento, che ci sia la firma del testatore. Attenzione a quei testamenti fatti in punto di morte da parte del genitore, o quando un genitore non è capace di testare perché in quel momento non ha più le facoltà mentali necessarie. Ci sono tutta una serie di questioni. Io dico sempre quindi che prima di arrivare ai fratelli coltelli di cui parlavo prima, credo che sia i genitori insomma i parenti prima dell'evento luttuoso dovrebbero in qualche modo valutare anche l'ipotesi di rivolgersi a un notai o a un avvocato per chiedere consigli, soprattutto i notai ma anche gli avvocati per i testamenti, per stabilire se non ci sono errori, perché a volte un testamento sbagliato ti spacca una famiglia dopo e se dei genitori hanno lavorato una vita per tenere unito la famiglia, magari un testamento sbagliato può distruggere quello che è stato il grande sogno di avere una famiglia coesa e unita. Affidatevi ad avvocati esperti, le successioni sono una materia assolutamente di nicchia difficilissima, sbagliare una causa di questo tipo significa veramente compromettere la propria esistenza, per cui non pensiate che tutti gli avvocati siano in grado di sostenere questo tipo di cause, quindi è molto importante valutare la qualità di un avvocato, cercare di trovare l'avvocato che fa per voi, perché un conto è occuparsi di un piccolo sinistro stradale e un conto è occuparsi di eredità.